Avvocato De Benedetti, quali saranno, secondo la sua esperienza, i trend del settore food in ambito legale per i prossimi anni? Penso che ce ne saranno diversi. Uno sicuramente interessante che sta emergendo in questo periodo è quello della proprietà intellettuale. Cioè si è abituati a pensare al food come ad un qualche cosa che sia patrimonio generale e generico, più o meno di tutti. Mentre in realtà negli ultimi anni la ricerca sta facendo moltissimo. In altri paesi come la Spagna sono già piuttosto avanti nel tutelare alcune, chiamiamole iniziative, chiamiamole scoperte, chiamiamole ritrovati come volete voi, di alcuni cuochi. Penso che questo potrà essere un qualche cosa che interesserà anche l'Italia. Questo dal punto di vista strettamente di quello che riguarda il food. Poi dal punto di vista societario quello che stiamo vedendo in questo periodo è la crescita di interesse di investitori più o meno istituzionali, di fondi di investimento. O di grandi società legate al mondo del food che stanno investendo in realtà magari più piccole ma di nicchia e di così elevato valore aggiunto. Ci sono, c'è interesse sicuramente da parte di fondi di investimento a livello europeo. Quello che stiamo vedendo negli ultimi tempi è un forte interesse da parte dell'Estremo Oriente ad investire in marchi ma anche in know-how italiano per adesso investire in partecipazioni di minoranze e poi il futuro ovviamente non lo conosciamo. Però questi secondo me saranno essenzialmente i trend quanto meno del prossimo anno. Grazie.